Quest'anno ci sono 4 motivi per dire ci vediamo a Mido. Domenica 28 febbraio alle ore 13 all'Otti Club presenterò il progetto Vai dall'Ottico. Due parti e due tipologie diverse di contenuto. Prima di tutto la storia di questo progetto e il piano di quello che voglio realizzare nel 2016 per fornire al settore e al mercato ancora strumenti e materiali di informazione e comunicazione per raccontare al cliente finale il motivo per cui gli occhiali, le lenti a contatto e tutti i prodotti e i servizi che riguardano il benessere visivo della famiglia devono essere acquistati dall'Ottico. Nella seconda parte di questa presentazione spiegherò come, utilizzando sempre la case history di Vai dall'Ottico, i progetti di social media marketing come questo o altri che si possono pensare a realizzare possono aiutare ogni attività commerciale e ogni attività professionale a promuoversi sul mercato ed entrare in relazioni con i propri clienti. Ti aspetto quindi domenica 28 febbraio al Mido presso l'Otti Club alle ore 13. Registrati sul sito Mido nella pagina di Otti Club.